buonasera ragazzi sono le tre del pochino sono ancora qua Dado sul nuovo canale non più su Dado channel questo video è solo per ricordare come ieri andrò in diretta su facebook alle 10 e mezza fino a mezzanotte vi invito ad entrare a vedere la mia diretta a partecipare alla mia diretta con tante domande che volete fare e noi affrontiamo qualsiasi argomento mi prenderò in giro da solo come ieri tutte le persone che hanno partecipato ieri alla diretta tutte le persone che hanno solo guardato persone che mi hanno mandato il messaggio implicato questa mattina su facebook dicendomi che gli sono piaciuto che hanno passato quei 5-10 minuti in allegria scusate i capelli in base di scelamento perché sono andato a dormire tardi perché ho guardato ho riguardato la diretta di ieri e un'altra cosa questa sera se voi siete d'accordo vi farò partecipare in diretta lasciando solo un commento durante la diretta io vi invito in diretta e un'altra cosa insieme a voi questa sera io monterò mentre sto in diretta il video di ieri sera abbiamo fatto la diretta la monterò e poi la un grande ciao un bacio a tutti da dado ciao grazie a tutti